Cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni. Oggi è lunedì 13 settembre 2010. Scuola Welfare! Scuola Welfare! Vediamo un po' cosa c'è da dire della scuola italiana. Della scuola italiana, ovviamente anche il rapporto alle altre scuole, scuole europee. Cioè questo video nasce dalla prima pagina dell'odierno Corriere della Sera. Prima pagina. È la prima pagina del Corriere della Sera. Odierno 13 settembre 2010. Ci dice il Corriere della Sera odierno, odierno 13 settembre 2010, che in Italia noi abbiamo dalla scuola materna, quella che comincia a tre anni, sino alla fine della scuola media superiore, che si finisce attorno ai 18-19 anni, noi abbiamo 7 milioni e 800 mila studenti. 7 milioni e 800 mila studenti e 700 mila insegnanti. Voi fate il conto? Dividete 7 milioni e 800 mila studenti, li dividete per 700 mila insegnanti, e vedete che c'è un insegnante, grosso modo ogni 10 alunni. Cioè in Italia lo Stato italiano attraverso le tasse dei cittadini paga 700 mila studenti, senza contare il personale amministrativo, e i cosiddetti collaboratori scolastici, quelli che una volta si chiamavano Bitelli, e poi in totale arriveremo a un milione. Se consideriamo solo i docenti, dalla scuola materna alla scuola media superiore, sono 700 mila, anzi di più, 701 mila, quali 702 mila, e gli studenti sono 7 milioni e 800 mila. Fate la divisione, abbiamo un insegnante di 10 studenti. Un insegnante di 10 studenti. Qua poi c'è un documento che si differisce a un paio di anni fa, un paio di 2-3 anni fa, dove dice che su 100 studenti, no, al 2005-2006, ma non è facile trovarle queste statistiche, comunque è l'anno scolastico 2005-2006, e su 100 studenti in Italia, ci sono 9,3 docenti, e in tutti gli altri paesi del Glocse 5,3. Cioè, in Italia si può dire che c'è quasi il doppio di, su 100 studenti, in Italia abbiamo il doppio di docenti, quasi il doppio, di quello che c'è negli altri paesi del Ocse, 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 Ocse. E questi soldati, amici miei, soldati forti, soldati forti, che tra l'altro andrebbero integrati pure, con un articolo sempre odierno, del Corriere della Sera odierno, ma il tradizionale della Lombardia, vuoi fare l'avvocato? Impegnati, perché dopo, e c'è l'articolo interno, perché è una brava ragazza, laureata in giurisprudenza, che ha lavorato pure, avvocato, una brava ragazza, avvocato, dice, dice, e il Corriere ci ricama sopra delle interviste a degli esperti, nelle pagine interne del Corriere di Riora di Lombardo, una brava ragazza, avvocatessa, sembra che abbia 29, no, 27 anni, avvocatessa a 27 anni, dice, avrei fatto meglio a scegliere il mestiere più umile, ok? Un'avvocatessa, 27 anni, e beh, delle statistiche dicono che ci sono più avvocati nella regione Lazio che non in tutta la Francia, capito? E diamogli il posto a questi qua, diamogli il posto di lavoro a questi qua, diamogli il posto di lavoro a questa avvocatessa di 27 anni, che dice, avrei fatto meglio a scegliere i mestieri più umili, ma quanto tempo è che le dice queste cose Serafino Massoni, da questa pubblica TV, pubblica TV, cari amici, avvocatessa, penalista, penalista, capito? Penalista, capito? Una penalista, laureata in giurisprudenza e senza lavoro, dice, tra virgolette, avrei fatto meglio a scegliere i mestieri più umili, ma va bene, ma va bene, fermiamoci comunque al settore che va dalla materna, alla scuola media superiore, lasciamo perdere l'università, perché se dovessimo parlare dell'università, anche gli amici ci dovremmo mettere a piangere, va bene, per fermarci alla scuola, alla nostra scuola, dalla materna, diciamo così, alla scuola media superiore, i licei, no? I licei, e osserviamo che al ministero della pubblica istruzione, Maria Stella Germini c'è stato da un paio d'anni, ma è l'attuale ministero della pubblica istruzione, così com'è, esiste da quando è nata la Repubblica Italiana, e ci fu un referendum il 2 giugno del 46, e poi diciamo che la carta costituzionale, mi pare che entrò in vigore il primo giugno del 48, mi pare, del 48, mi scusatemi se mi sbaglio, e Maria Stella Germini non è che è ministro della pubblica istruzione, dalla nascita della Repubblica Italiana, Maria Stella Germini sta al ministero della pubblica istruzione da due anni, e prima di Maria Stella Germini, che è del partito della libertà di Silvio Berlusconi, ci sono stati anche due ministri comunisti, due ministri comunisti ci sono stati, al ministero della pubblica istruzione, prima della Maria Stella Germini, due ministri comunisti, uno si chiamava Luigi Berlinguer, ed era fratello del grande Enrico Berlinguer, e l'altro si chiamava Giulio De Mauro, due ministri comunisti, non due ministri del PDL, no? Cioè, capito? Da quando è nata la Repubblica Italiana, non è che come ministro della pubblica istruzione abbiamo sempre avuto, dal 48 ad oggi, non è che per 60 anni come ministro abbiamo avuto Maria Stella Germini, capito? Ci sono tanti altri ministri, prima di Maria Stella Germini, e recentemente, intorno al 98-99, 1998-99, due ministri comunisti, allora si diceva post-comunisti, erano della Quercia, però prima avevano militato nel partito comunista, uno Luigi Berlinguer, e l'altro Giulio De Mauro. Sapete che cosa gli successe a quei due ministri comunisti o post-comunisti della Quercia, non so cosa dire, di occhetto, non so cosa dire, comunque andate a digitare, digitate su Google i nomi di Luigi Berlinguer, e poi Tullio De Mauro, e così vedete di che si tratta. E sapete che successe? Quando andarono al potere, e ovviamente c'era un governo di centro-sinistra, il ministero della pubblica istituzione nelle mani dei comunisti, post-comunisti, i docenti avrebbero dovuto inginocchiarsi a ringraziare la Madonna, che finalmente era arrivato un ministro comunista, post-comunista, finalmente, dopo decenni e decenni di ministri democristiani, finalmente anche i comunisti, post-comunisti, si sedevano sulla poltrona del ministero della pubblica istituzione. Sapete che gli hanno fatto al ministro comunista, post-comunista Luigi Berlinguer? I sindacati lo hanno fatto zoppare, gli hanno fatto zoppare la poltrona ministeriale i sindacati, capito? Non è che si sono calmati, hanno detto, beh, lasciamogli un po' il tempo di lavorare al ministro comunista, post-comunista Luigi Berlinguer, eh? se vuole... no, non l'hanno lasciato, perché lui dice, voleva introdurre dentro le scuole relativamente ai docenti un principio di meritocrazia, va bene? Un principio di meritocrazia, e i docenti si sono incazzati, ma qual è? Noi la volevamo la meritocrazia, la meritocrazia la vogliamo applicare solo agli studenti, noi i voti li vogliamo dare noi agli studenti, ma nessun altro li deve dare a noi ai voti, capito? nessuno ce li deve dare a noi i voti, ma qual è la meritocrazia? Luigi Berlinguer, a noi non ce ne frega niente che tu sei un ministro comunista o post-comunista, eh? Ma hanno fatto zoppare i sindacati, capito? Tutti i sindacati hanno fatto zoppare il ministro comunista, post-comunista, Luigi Berlinguer, allora il governo, siamo nel 1998-99, il governo dice, beh, ce ne dobbiamo mettere un altro, al posto di Luigi Berlinguer, e che hanno fatto? E non sono andati ad accappare Tuglio De Mauro, un altro comunista, post-comunista, un uomo di grande cultura, e l'hanno messo lui, seduto al ministero della pubblica istruzione, dove adesso è seduta Maria Stella Germini, Tuglio De Mauro, anche lui, era un ministro comunista, post-comunista. Sapete da chi è stato fatto zoppare per aria? E Tuglio De Mauro, ministro della pubblica istruzione, comunista, post-comunista, dai precari. Siccome i precari volevano essere ascoltati, come hanno fatto adesso con la Germini, solo che la Germini si è fatta furba e non li ha ascoltati, perché c'aveva l'esempio del suo predecessore Tuglio De Mauro, comunista, post-comunista. Tuglio De Mauro è andato a ascoltarti a Napoli i precari. I precari lo hanno investito di parolacci al punto che Tuglio De Mauro si è messo a piangere pubblicamente. Pubblicamente si è messo a piangere Tuglio De Mauro e storia, questa qua, cari amici, storia. Ma allora, se, se, allora, qualunque ministro si sieda alla Minerva non va mai bene, non va mai bene. Se è la Maria Stella Germini non va bene perché è di Berlusconi. Se sono, che so, la Luigi Bellinguer e Tuglio De Mauro che erano ministri comunisti, post-comunisti non vanno bene manco loro. Non ci va bene nessuno, nessun ministro va bene. Capito? Non è colpa di Maria Stella Germini ma lasciate la pedra che sta al ministero solo da due anni. Nei 50-60 anni precedenti della Repubblica italiana non c'era mica la Maria Stella Germini, no? E tutte state di grazie che ci stanno nella scuola non la vera mica causate tutta la Maria Stella Germini che c'è da due anni. Perché se già una decina di anni fa i precari facevano zompare per aria e il ministro comunista post-comunista Giulio De Mauro vuol dire che le cose nella scuola elementare si dice che vadano male da tanto. Si dice si dice si dice ma si dice ma non è vero che vanno male le cose e l'animo umano è il fatto che noi vorremmo tutti essere assunti alle dipendenze dello Stato capito? E se fosse per l'animo umano su 50 milioni di italiani e 50 milioni vorrebbero fare i docenti capito? E chi se ne frega da dove vengono i soldi per pagare 50 milioni di docenti capito? Chi se ne frega manderemo lo Stato italiano a fare bandito contro gli altri Stati lo Stato italiano lo manderemo le palle a rubare i soldi agli altri Stati però io voglio essere impiegato dello Stato capito? Ho il diritto c'ho c'ho il diritto Maria Stella Germini avete scoperto Maria Stella Germini guardate chi vi dice queste cose cioè io Serafino Massoni è quello che ha fatto il video intitolato se io fossi il premier andate a vedere cari cari prima di farvi i commenti andate a vedere il mio video se io fossi il premier perché se voi non andate a vedere il video il mio video intitolato se io fossi il premier e poi mi fate dei commenti negativi dai quali commenti negativi però capisco che voi il video se io fossi il premier non l'avete visto non vi rispondo perché non è giusto cioè prima di fare dei commenti a questo video magari che non conoscete questo canale andate a vederlo il mio video se io fossi il premier così capite meglio chi è come la pensa colui che vi parla Serafino Massoni la pensa come ha detto nel video se io fossi il premier e allora rileggiamoci un po' le statistiche qua dalla scuola materna ai licei agli ultimi anni dei licei 7 milioni e 800 mila studenti e 700 mila no dalle scuole materne ai licei 7 milioni e 800 mila e studenti e 700 mila docenti senza contare il personale amministrativo e i collaboratori scolastici con i quali arriviamo un milione quindi lasciamolo perdere i collaboratori scolastici cioè i bideli e il personale amministrativo sono tanti sono tanti chiamiamoci i docenti se facciamo una divisione tra 7 milioni e 800 mila studenti e 700 mila docenti abbiamo che c'è un docente ogni 10 alunni e qua io vi dicevo prima le statistiche le potete andare a criticare pure voi che nei paesi Ocse risultavano l'anno scolastico 2005-2006 mentre in Italia c'è una su 100 studenti ci sono 9,3 docenti e nei paesi dell'Ocse ogni 100 studenti 5,3 docenti quasi la metà come dire che in Italia su 100 studenti c'è un numero di docenti quasi doppio di quello di tanti altri paesi europei ma dov'è che lo Stato non dà soldi non dà soldi che non dà soldi alla scuola ma dove dove ma se dovessimo dare retta a tutti vi ripeto i 50-60 milioni italiani vorrebbero tutti essere lavoratori dentro la scuola rapporto uno a uno un docente e uno studente cari amici ma cari amici andate a vedere il mio video se io fossi il premier e ricordatevi cari amici che ricordatevi che ci sono tre grandi religioni patriarcali che dominano il mondo che sono ebraismo cristianesimo islamismo che hanno come testi sacri i dieci comandamenti e come testi sacri e hanno anche il primo libro il libro Genesi della Bibbia nel libro Genesi della Bibbia il Dio il Dio più potente del mondo il Dio degli ebrei che è il padre del Dio dei cristiani e del Dio degli islamici il Dio questo Dio potentissimo che governa tutto il mondo questo Dio degli ebrei tramite suo figlio cristianesimo e suo figlio islamismo ha detto agli uomini guadaglierai pane dal sudor della tua fronte un ordine sempre valido non l'hanno mica cancellato da nessuna parte è valido pure in Cina in Cina non c'è mica il cristianesimo perché i dici comandamenti sono propagati in tutto il mondo senza essere necessariamente veicolo di religiosità e sono stati veicolo di patriarcato 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 cari amici cari amici quello che ha il pane avanzo torta la tua fronte è un ordine divino e vale pure per chi non ci crede a Dio perché tutto il mondo funziona così tutto il mondo funziona così ma lasciatela perdere guardate che io cari amici il mio pensiero lo ricavate dal mio video se io fossi il premier mi raccomando prima di fare commenti andate a vedervi il mio video che è breve tra l'altro se io fossi il premier ed io la penso se la fine praticamente come la pensa Servino Massoni come nel video intitolato se io fossi il premier ma lasciatela perdere Maria Stella Cermini i ministri della pubblica istruzione ce ne sono nella Repubblica Italiana nel 1946 e dal 1946 non ce n'è stato uno che abbia accontentato i docenti e i genitori non ce n'è stato uno in 60 anni della Repubblica Italiana 60 70 quelli che sono non ce n'è uno che era accontentato non ce n'è stato uno solo neanche i ministri i comunisti i post comunisti Luigi Berlinguer e Tuglio De Mauro allora se non hanno accontentato il mondo della scuola non sono riusciti ad accontentare i docenti due ministri comunisti i post comunisti che amano il popolo e continuano amano il popolo i comunisti amano il popolo eh non l'ho mica accontentato io sta facendo qua no e se non sono riusciti ad accontentare il popolo in questo caso la scuola i docenti non sono riusciti non sono riusciti ad accontentare i docenti e anche i precari due ministri post comunisti comunisti e post comunisti come Luigi Berlinguer e Tuglio De Mauro come può riuscirci la Maria Stella Cermini che non è comunista che magari non è complicata ad amare il popolo capito? andiamo ma non affacciamoci certe pretese cari amici ma lo vedete che l'URSS l'URSS il paradiso dei lavoratori è crollato è crollato il paradiso dei lavoratori è crollato vedete che adesso anche Fidel Castro dice che quasi quasi è meglio è meglio è meglio cosa sono meglio gli americani ha detto anche Fidel Castro un punto di morte si sta convertendo vedete ma lasciate perdere cari amici ma invece pensate piuttosto a guadagnarvi il pane con sudor della vostra fronte cari amici e invece di star lì a strillare tanto a strillare ci sono tanti posti di lavoro in Italia tanti posti di lavoro che sono occupati dai nostri 4 4 o 5 milioni di schiavi fratelli nostri comunitari e extracomunitari che abbiamo in Italia che lavorano per noi per noi 4 o 5 milioni di fratelli schiavi extracomunitari e comunitari lì si che ce n'era da lavorare ce n'era da lavorare e non avremmo avuto tutte le polemiche sugli stranieri e via di seguito e va bene cari amici ricordatevi che Maria Stella Cernini era ministero da due anni e che prima di lei ma quanti ce ne furono le ministri della pubblica istruzione anche due ministri comunisti post comunisti Luigi Berlinguera e Tuglio De Mauro e neanche loro che erano comunisti post comunisti cioè ministri che amano il popolo neanche loro non riuscirono a soddisfare il mondo della scuola e vengono fatti zampare dopo pochi mesi di permanenza al ministero va bene mi raccomando prima di fare i commenti andate a vedervi il mio video se io fossi il premier 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 e poi statistica prima pagina è Corriere la sera odierno va bene cari amici a questo mondo non saremo mai soddisfatti perché vogliamo avere sempre di più sempre di più sempre di più ma la manna dal cielo cari amici cade una volta sola e da allora non si è fatta più vedere cari amici grazie se mi avete ascoltato e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni